buongiorno allora faccio questo video oggi mi sono preso la giusta le patatine della pizzeria e trattoria d'apice dal 1997 aperto a capo di monte in gestione la pizzeria d'apice in gestione al bar bariale oggi si sono preso la loro pistola e patatine eccola qua eccola qua adesso andiamo anche d'apice merita un bel futuro ma sono fatta tagliare in quattro parti in quattro parti dal pizzeria lo stesso è davvero preso una pepsi andiamo con la prima fetta della grande si tende la mozzarella che si sente la mozzarella la cosa è che si scioglie in bocca grazie a tutti grazie 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 a tutti Grazie a tutti Ultima fetta Grazie a tutti 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 Grazie a tutti